ciao a tutti e bentornati su indie gameplay ita oggi siamo su un gioco davvero molto particolare il suo nome è dino system è un gioco che è uscito a marzo del 2020 e costa 6 euro e 59 la cosa interessante è che il prezzo da quanto ho letto non aumenterà quindi è previsto un aumento andando avanti con lo sviluppo e dalla versione di gioco che leggiamo in basso a sinistra 0.95 la cosa mi fa pensare che siamo al 95 per cento dello sviluppo il gioco è sviluppato da daniele ferrano che mi aveva contattato un anno fa e povero io l'ho fatto aspettare fino ad ora me l'ha anche scritto nei commenti dai porta il gioco dai che e io poi ho avuto sempre da fare e ammetto le mie colpe allora inizio subito col dire che è un gioco intrigantissimo ma lo proviamo insieme perché io ho già visto qualcosina ma tempo e tempo fa quindi in versioni precedenti del gioco ed è un survival che è giocabile in due modalità una modalità dio dove possiamo andare a modificare e vedere come cambia un ecosistema in base alle nostre scelte da divinità oppure secondo me la più intrigante la survival dove saremo un uomo in un mondo di dinosauri il gioco lo dico subito per i patrioti è sviluppato da una persona italiana ma non è in italiano semplicemente perché lui ha detto io preferisco finire tutte le features piuttosto che aggiungere l'italiano aggiungere più lingue poi magari dover riscrivere tutto quindi per chi gli va bene insomma è questo per chi non gli va bene è così uguale allora vi faccio vedere una cosa tanto so che tanti sono già andati via a questo punto allora la cosa intrigantissima è che c'è un ecosistema che fa crescere le piante con la luce del sole i semi si diffondono per contro loro gli animali combattono per il cibo diventano vecchi muoiono le stagioni il tempo la temperatura disastri si formano laghi fertilità e sim e aridità del terreno è simulato da meccaniche complesse pensate un po il mondo i laghi evaporano in base alla pioggia all'umidità alle temperature la terra è fertile in certe condizioni o in presenza di acqua o materiale organico o temperature insomma l'aridità si espande con deserti cioè figo ci sono le stagioni ci sono vento e neve e pioggia e neve scusate vento nebbia e tempeste di sabbia temporali addirittura anche asteroidi però insomma questo sarà un pochino da da approfondire abbiamo le basi del della sopravvivenza quindi dovremo ci troveremo con le due pietre a dover fare la scintilla per accendere il fuoco a filano a filare le pietre pulire le pelli dalle carcasse degli animali e dovremo craftare per sopravvivere abbiamo anche un sistema di skill system e la possibilità di pescare e di addomesticare gli animali lo andiamo a vedere adesso io vi premetto questo non è un tutorial ma è semplicemente neanche un gameplay a dire la verità lo proviamo perché voglio farvi vedere com'è la modalità è la god o la survival appunto si possono scegliere i vari parametri il menu devo dire è un classico da gioco indie quindi abbastanza semplice non è sembra diciamo un tech menu insomma stagioni iniziamo dalla primavera no mai asteroidi dai cioè non non è realistica la cosa all'inizio dove non so giocare la peace mode è praticamente come dice non ti piacciono i tiranosauri non appariranno mai sull'isola va bene dai lo chiamiamo indie world come al solito start e il gioco inizia a lavorare e quindi andremo a in combat c'è in combattimento c'è una sola regola vai alla testa dipende dall'arma e al al bersaglio dell'armatura facendo un headshot insomma facciamo più danno e praticamente la pelle diventa più scura in base all'esposizione solare cioè cioè quale gioco è una cosa del genere nota gli umani non sono mai vissuti con i dinosauri quindi lo scenario presentato da dinosystem nella survival mode è puramente di finzione questa è una precisazione che non è poi così scontata a dire la verità avendo una varia dieta ti mantieni forte in salute quindi non possiamo sempre mangiare le patatine fritte insomma ma dobbiamo alternare i vari cibi che è intrigante come cosa calcolando che siamo in un'epoca paristorica quindi non è che allora difficoltà la realistic ci cambia un pochino la cosa la realistica le notti sono più scure le statistiche come vita e respiro sono più basse e prendono più tempo a recuperare la velocità di corsa realistica bisogna di un una buona quantità di cibo o acqua e hai più problemi pescando o facendo il fuoco io metto la roguelike quando muori il personaggio è perso per sempre no facciamo una normal perché non siamo proprio kinton questa è la visuale di gioco quindi possiamo metterci io sono bianchissimo quindi metabolismo un metabolismo più veloce ti permette il tuo corpo di cambiare più rapidamente in accordo col tuo stile di vita e la cura è considerabilmente più veloce ma ti rende meno efficiente nella nutrizione va bene allora capelli gray blonde brown e io sono pelato vabbè uomo donna no no diciamo l'uomo vedete che qua dice che la la forza è più bassa e quindi pesiamo anche di conseguenza meno io sono grasso corporeo meno tecnicamente il grasso dovrebbe siamo leggermente grassi dovrebbe tenere più calore abbiamo anche meno forza va bene dai e qua sono le skill abbiamo i punti non possiamo iniziare perché dobbiamo andare a zero quindi vediamo allora il metabolismo intanto io vi leggo tutto perché il gioco ve lo sto presentando quindi metabolismo muscoli e grasso gradualmente cambiano durante il gioco seguendo il tuo stile di vita le skill salgono quando le usi ma possono anche decadere lentamente quando lasciate lì insomma le skill almeno 100% sono pronti a scendere ok allora praticamente abbiamo questa abilità ve le leggo tutte l'atletica il melee combattimento diciamo corpo a corpo l'endurance respiro sforzi cose varie range dell'attacco a distanza tugness aumenta la vita massima riduce la chance di essere avvelenato è una sorta di tempra insomma primo soccorso fire making butchering quindi fare il fuoco primo soccorso punto butchering macellare craftare raccogliere perché se dico gaterare viene fuori un putiferio costruire pescare scavare zoologia io abbasserei la range che al momento non mi interessa abbasserei la zoologia e abbasserei digging così siamo a posto direi che siamo a posto inizio giorno 1 moriremo malissimo vediamo un attimo i controlli sono quello che mi ha detto proprio lo sviluppatore Daniele mi ha detto quello che può creare problemi è la grafica e appunto la lingua inglese benvenuto a dinosystem pausa il gioco per mp per seguire il tutorial senza perdertelo solo puoi saltare ok premi f1 va bene dai invio puoi disattivare questo tutorial sentando esc settings se disabiliti e abiliti il tutorial ancora ricomincerà dall'ultimo capitolo visto nota che durante il tutorial gli animali non ti attaccheranno a meno che tu non li provochi dinosystem è un complesso survival game dove il giocatore è immerso in un emergente ecosistema una simulazione emergente di ecosistema il gioco è aperto che non c'è storia specifico obiettivo da raggiungere devi settare tu i tuoi obiettivi mi piace e preciso anche che la grafica per me non è mai stata un problema calcolando che ho passato 150 ore su my summer car e soprattutto ho giocato a giochi con una grafica molto più brutta di questa e mi ci sono divertito da paura tutto quello che fai ha impatto sull'ecologia dell'isola se uccidi animali o specie potrebbero estinguersi e l'ecosistema potrebbe alterarsi o anche collassare non vuoi che questo succeda dato che la tua vita dipende da esso il mondo di dinosystem è come un organismo vivente non diciamo è parte del giocatore insomma non è scisso da lui impariamo i controlli base zoom in e out per il mouse per ingrandire non puoi zoomare troppo ah non puoi zoomare out troppo mentre in god mode puoi vedere l'isola massimo zoom vabbè ma quella la god mode secondo me è una cosa secondaria per chi ama magari giochi come black and white o cose del genere dinosystem ha una grafica 2d con vista dall'alto che limita l'abilità di vedere davanti poco lontano il tuo personaggio per questo problema ti permette di muovere la visuale per fare questo c'è una visuale chiamata mira mode allora la neve di guerra ti previene da vedere troppo lontano line mode ok è usata con ok ora prova a muovere la visuale premi alta la aim mode ma non me lo fa perché devo togliere la pausa immagino infatti perché mi fa vedere di lama non vedo niente ben fatto alt interrompe ok ora diamo un overview diciamo una vista generale all'interfaccia dinosystem ha un approccio molto a core al survival mechanic qui c'è l'essenziale è stato cyclone guarda la freccia rossa l'esposizione solare l'esposizione al vento il quanto sei bagnato l'insolazione che ti protegge da alberi ok la seconda ok l'esposizione solare 8 questa invece è la cosa muscolare insomma mostra ok praticamente più lavori più questo aumenta ok e l'ultima è la forza fisicamente è influenzata da molti parametri come muscoli grasso vita stamina calorie questa è la temperatura la temperatura percepita non la temperatura dell'ambiente ok fattori 7 più 4 l'umidità dell'aria meno 5 il bagnato che siamo bagnati più 3 per cento il grasso infatti come avevo detto il grasso ma non l'ho letto cioè ho intuito che per quanto questo gioco tenti di simulare appunto era prevedibile che il grasso influenzasse la temperatura percepita e uno in meno uno percepito in idol perché siamo fermi chissà da quanto iniziamo adesso la barra dei bisogni ok mostra le necessità del personaggio la vita i punti vita la stamina che bisogna per dormire la nutrizione le calorie insomma e l'idratazione e qua lo stomaco lo stomaco non mostra il bisogno di cibo ma come è composto il tuo stomaco ok finalmente puoi accedere alle avanzate il pannello avanzato del personaggio premendo tab e qua vediamo tutto quello che abbiamo visto finora perfetto va bene vasdo per muoverti nelle differenti direzioni dipende dal control mode ok sprint con shift tiene il respiro sale l'athletic skill spazio per saltare perfetto interazione ora impariamo come interagire con gli oggetti allora find reach and reach stone allora praticamente dice di raggiungere una roccia dove indica la freccia rossa ok dai tolgo la pausa vedete che qua abbiamo disposizione solare dell'8% ma se mi sposto qua sotto tecnicamente 0% quindi in questo caso siamo sotto l'ombra della palma e non stiamo prendendo il sole adesso ah ma siamo bagnati perché qua c'è l'acqua ah ok trovo una trovo una pietra e vaci veramente vicino ok vediamo se abbiamo una pietra stiamo percependo 3 gradi siamo praticamente ignudi eccola qua la pietra eccola qua ok qua c'è una pietra se ti muovi il mouse di essa diventerà colorata ok ok il nome colorato ok il verde è la migliore condizione ok vediamo anche la cosa ok ogni oggetto sono cose che lo influenzano per accedere a cose avanzate premi z e quindi ci fa vedere la condizione della pietra e che cos'è esattamente va bene ok premiamo il tasto del mouse ah ok la possiamo tenere in mano poi se la molliamo oltre il cerchio che esce intorno a noi la molliamo in automatico se premiamo F andiamo in equip mode e quindi la possiamo equipaggiare sulla mano ok ok ah ok ok è mancino insomma questo è il personaggio quindi devo fargli la metà alla sinistra infatti si vede che sulla sinistra c'è il simbolino proprio del tool quindi è mancino per gettarla clicca col mouse destra vediamo un po' premo F premo ok me la molla subito ok se invece ci sono multipli item premi C ok va bene combat ora imparerai come difendere te stesso come già menzionato puoi solo attaccare con un'arma ed è tenuta con la mano sinistra se tu butti la pietra assicurati di equipaggiarla ancora per fare un attacco melee quindi premi C ah ok così poi ci stanchiamo subito hai visto la barra rossa sotto il personaggio? mostra il ritardo dell'attacco durante il quale puoi ripetere l'attacco il ritardo dipende dall'arma usata la tua melee range skill e muscol muscol sadness questa influenza quanto ritardo hai tra un attacco e l'altro fighissimo ora performiamo un attacco a distanza assicurati di avere la pietra nella tua mano sinistra tieni premuto alt e premi X per lanciare la pietra ok macchinoso ma mi piace macchinoso ma mi piace che figo fighissimo come cosa perché F sono una serie di tasti da premere ma è un survival che pensa a tutto il tutorial è quasi completo ok ora si fa interessante la cosa perché accende un fuoco e dice di accenderlo in una zona coperta per prevenire il suo la sua spregnimento quando piove accumula carburante tipo rami foglie o carbone o carbonella oppure legno migliore per fare un grande fuoco un singolo ramo o foglia non è abbastanza comunque bisogna fare attenzione anche all'umidità delle cose che prendiamo e soprattutto una buca per fare un fuoco è indicata perché previene che il fuoco vada fuori controllo e si incendi tutto per craftare o costruire premi G craft build hai bisogno di craftare le componenti che trovi sul terreno alcuni item richiedono che tu abbia un minimo di crafting building skill alcuni item non possono essere craftati dal crafting menu ma direttamente cliccando col destro sull'oggetto grezzo dal quale per pulire una pelle ad esempio ok per andare a dormire premi G slip il tuo personaggio cadrà a dormire ok per bere dalla pioggia premi G drink per bere da una pozza i click drink ok impareremo stai away stai lontano dai tiranosauri non essere masochista bene il tutorial giunge alla fine quindi a questo punto siamo in valia di noi stessi io clicco col destro vediamo se mi fa bere drink ok ora percepiamo una temperatura di 29 gradi allora 9 ambientale più abbiamo 3 dell'umidità 15 dal sole perché siamo il sole quindi secondo me se ci mettiamo qua all'ombra adesso viene la percepiamo molto più basta scenderà rapidamente infatti all'ombra secondo me fa faredo calcolando vabbè luna di pomeriggio però di primavera però vabbè non voglio far patire il mio socio premol tasto G craft build vediamo il menu è grezzissimo questo ma io sono onesto perché comunque anche lo sviluppatore mi ha detto sia onesto ma a me non dà minimamente fastidio questa cosa perché comunque il gioco è notevole se non unico quindi vediamo che cosa si può fare fire pit contiene fuoco metto in pausa non so perché eh non posso ma fire pit previene che il fuoco si espanda e parzialmente protegge dal vento skill building zero quindi lo possiamo fare le mani servono dieci stone di ogni dimensione usa una grande pietra per ok ma quindi in sintesi non c'è un inventario posso girare stamp e posso prenderla no 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 il salto 33 gradi vedete che adesso abbiamo nello stomaco anche il 30% riempito dall'acqua si sta bene diciamo metabolismo ok proviamo a fare della pietra vediamo se riusciamo così clicco col destro find stone ma se lo colpisco non so cosa si ottenga ma dico find stone ma se io dico b big stone ok cerchiamo la big stone è più difficile da trovare 12% di chance ci sta salendo anche la skill di gathering infatti abbiamo sempre più scelta ah devo tenere premuto ok vediamo un po shift il fatto che non riesco a capire dove la mette la pietra quando la raccoglie poi magari sicuramente Daniele passerà a vedere il video e mi dirà ho raccolto la pietra eccola qua allora la porto la tengo in mano la metto qui voglio fare craft builder voglio fare come che era fire pit component missing no metto in mano vediamo se riesco craft build fire pit no component missing no proviamo proviamo a fare facciamo così mi sto abbronzando intanto ok sto prendendo della pietra ok proviamo continuano a cogliere pietra vediamo ne ottengo un po ha detto che mi serve 10 di pietra quindi facciamola rudimentalmente quindi se dovrei andare anche a prendere dei stone found dentro stone found ok dai sto trovando della pietra adesso magari riusciamo a sì mi sta salendo gathering e io perché mi sto facendo male allora iniziamo all'interno di questa cosa iniziamo a mettere vediamo se ho capito giusto la la meccanica stiamo mettendo delle pietre per creare un fuoco quindi vediamo sta diventando buio tra l'altro sun in setting eh sì vediamo un po' se riesco a fare vediamo un po' allora premo F prendo la pietra grossa la metto lì vediamo se qua adesso mi da la possibilità di costruire il fire pit 9 su 10 uh me ne manca una me ne manca una dai fine stone probabilmente perché la pietra grossa conta più delle altre ok ho fatto un po' ad cazzum però posso creare uh no 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 eh sì lo so lo so fire pit è verde quindi posso farlo posso piazzarlo me l'ha messo? no ehm ehm rifai lo metto qui ok ok ho dovuto mettere tutte le pietra anche perché non siamo praticamente nudi non abbiamo tasche quindi dobbiamo appoggiare oggetto per oggetto ok abbiamo fatto il pit ora dobbiamo metterci all'interno della vediamo un po' ah ma non ho in mano niente mannaggia get leaf get branch dai raccogli ah ok un branch posso tenerlo in mano sì eh get branch anche la resina c'è volendo aspettate che raccolgo tre continuo a escurriarmi la pelle ma va bene sta anche facendo freddo ok allora aspetta che metto segna qui proviamo la portiamo riesco a tenerla in mano qua e uno di là ok sempre che mi ricordi dove ho messo il fuoco mannaggia mi serve la pietra adesso metto lì primo f it's cold eh lo so lo so stiamo accendendo il fuoco ora dismantle no g light fire with what no mi servono due due pietre ma il problema è che mi servono due pietre una per mano e poi cerchiamo di dargli fuoco speriamo di trovarle aspettate che inizio a prendere una e me la metto in mano dai cerca pietre almeno l'obiettivo di accendere il fuoco vorrei aggiungerlo in questo video ok no non clean ma light fire vediamo eh sì mi sono colpito stone broken mamma mia stiamo morire no dai cerca un'altra pietra dai non abbiamo una grande abilità nella nella adesso me la metto in mano light fire g light fire vai 0% possibilità ci mancano le foglie probabilmente o anche l'umidità perché più fire oh si è acceso si è acceso si è acceso prendi la foglia prendi la foglia ok buttala nel fuoco anche quella dai 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 ah che bel caldo ah che bel caldo che bel caldo niente perché non si sente ah sì più 10 di grado sì perché saremo a 0 adesso meno taré ambiente oh che bel caldo e non abbiamo fatto niente ancora qua c'è con la m la mappa ma non si vede nulla possiamo dare un'occhiata lontano quello che abbiamo esplorato finora ci si vede anche il riflesso della luna nell'acqua cioè ragazzi questo potrebbe essere take a nap non so cosa voglio dire credo possa essere uno dei survival più estremi più intriganti che io abbia mai visto e mi dispiace aver aspettato così tanto portarvelo costa veramente pochissimo visto anche l'impegno che ci è stato messo non è un gioco sicuramente per tutti perché vabbè tanti non piacciono in survival ma tanti sono altrettanto schizzinosi per quanto riguarda la grafica per me nessun problema se cammino sopra il fuoco no vabbè non avrebbe senso camminare sopra il fuoco ci stiamo riscaldando abbastanza anche se in realtà il fuoco adesso sta perdendo efficacia perché si sta per spegnere si è spento ed è veramente tosto non so dirvi e qua rimando anche a quello che magari scriverà lo sviluppatore sotto se ci saranno anche edifici credo che wall dei radici perché gli edifici li possiamo fare ovvio in questo gioco non avete l'evoluzione all'epoca moderna medievale insomma è un gioco di sovravenza così non ha il multiplayer è senz'altro interessante è un po' rudimentale come menu però cavoli c'è dietro un ecosistema uno studio dell'ecosistema pazzesco quindi complimenti per il gioco questo mi sento di dirlo e non l'ho detto molte volte nella verità fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate di questo Dino System e noi ci sentiamo al prossimo video in play mentre io muoio vi saluto e ciao ciao grazie a tutti